buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora una domanda ricorrente che mi fate è se i miei gemelli si assomigliano allora partendo dal presupposto che loro sono gemelli bicoriali biammiotici quindi per natura sono diversi perché sono come se fossero fratelli poi in realtà sono soltanto nati lo stesso giorno e quindi sono gemelli però volevo rispondere a questa domanda in maniera un po più articolata ma senza parole ho creato una serie di videoclip per rendere un po l'idea e per rispondere in maniera più esaustiva possibile quindi io adesso vi lascio alle immagini e ci vediamo dopo ciao iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Un bacione, alla prossima, ciao!